L'Oquette Blues è considerato uno dei più tristi e copi cortometraggi della serie Tom e Jerry. Ha scosso l'opinione pubblica a causa della sua tematica sconvolgente. La sorpresa è stata generata dall'improvviso immersione nell'oscurità di una serie solitamente leggera come Tom e Jerry. L'esplorazione della depressione e del suicidio ha suscitato emozioni contrastanti, mettendo in luce la fragilità umana. La scena finale, con i protagonisti sui binari del treno, ha sollevato preoccupazioni per la rappresentazione di un gesto estremo in un contesto per bambini. L'insieme di questi elementi ha generato un'ondata di fervore e reazioni intense, rendendo questo cortometraggio un fenomeno risuonante nel mondo dell'animazione.